La politica commerciale di Egeo punta a radicarsi fortemente sul territorio e a dare ai cittadini, alla potenziale clientela, un servizio che in questo momento tende ad essere un po' trascurato dai diversi player del mercato. L'apertura degli sportelli per noi rappresenta, normalmente la definiamo un 6x3 vivente, il fatto quindi di dare una rappresentazione plastica della nostra presenza sul territorio affinché tutti i contratti di gas ed energia elettrica abbiano un volto. Noi vogliamo portare al cliente il miglior servizio, non solo in termini economici, ma soprattutto di assistenza a tutte le problematiche che il cliente può avere nel corso del contratto. Il significato degli sportelli quindi è proprio questo. Lo sportello di Andorra è ormai quasi il ventesimo sportello aperto nella zona del nord-ovest. La nostra politica è quella di ulteriore espansione anche nel ponente Ligure che riteniamo un'area fortemente evocata alla nostra azione commerciale. Quindi puntiamo molto, abbiamo molte speranze e riteniamo che il territorio possa apprezzare questo tipo di servizio dandoci tante soddisfazioni e potendo dare noi al territorio altre tante soddisfazioni. Ringrazio.